Buongiorno e ben trovati con questa edizione di mattino 6 e giovedì 6 luglio 2017, stiamo per sfogliare insieme a voi le pagine dei quotidiani locali ma anche a vedere le prime pagine delle principali testate nazionali. Iniziamo subito la nostra rassegna dunque con le prime pagine delle testate locali, andando subito con il centro, le quattro edizioni provinciali, qui siamo sull'edizione aquilana. Biondi scommette sulle donne, questa è l'apertura, tre o quattro poltrone rosa in giunta, Daniele verso la presidenza del Consiglio, poi sotto la testata emergenza migranti, l'Austria fa dietro front, niente blindati al confine, la protesta agricoltori abruzzesi a Roma, no al trattato Canada-Unione Europea. Poi la fotonotizia che è comune alle quattro edizioni del centro, i paperoni italiani dello sport, ma è giusto pagarli così tanto e ci sono appunto gli sportivi più pagati, Danilo Gallinari 19 milioni all'anno, 14 milioni per il calciatore Graziano Pellè, peraltro Gallinari si sta accasando in una nuova franchigia in NBA, i Los Angeles Clippers, poi Valentino Rossi 7 milioni e mezzo e poi ci sono gli abruzzesi 5 milioni e 6 per Marco Verratti, 1 e mezzo per il motociclista Andrea Iannone. Di Spalla, nelle cronache, Avezzano muore a 38 anni dopo un dolore alle orecchie, a Pescina Bancario tenta di darsi fuoco in autostrada, a Sulmona la 3G passa l'accordo, stop ai licenziamenti. Poi il botte risposta ancora con la polemica degli ombrelli in occasione di Fonderia Abruzzo, niente scuse ecco perché nella lettera inviata dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e poi l'intervista alla scrittrice Dacia Maraini, foto penosa, un danno per l'Abruzzo. In basso, Avezzano, partite sospese per bestemmie, Don Adriano chiude il campo di San Rocco per 7 giorni. Siamo all'edizione di Chieti, a giudizio per la villetta esplosa, nel crollo morì la proprietaria e in due devono rispondere di omicidio colposo. Di Spalla, alcuni richiami, vasto crisi idrica, emergenza nel Vastese, schiavi d'Abruzzo, rubati in casa 100 mila euro di gioielli. Poi a Chieti, Suberi, Daico in 400 protestano in strada. In basso, Lanciano, il portiere riabilitato dal Tarri, i giudici amministrativi cancellano il divieto agli allenamenti per Mirko Trivilino. Avanti ancora con l'edizione di Teramo. La Coppa piace anche blindata. Interamnia, successo della sfilata inaugurale, ma il futuro dell'evento è a rischio. Silvi, picchia madre e zia, giovane in carcere. A Martinsicuro, sindacalista arrestato per truffa. E poi ancora colpo a Sant'Egidio, fanno saltare in aria il bancomat della BNL. E poi ancora, esposto in procura e manifesti a caccia dell'eredità sparita. Donna non trova più mobile gioielli della madre morte. Poi a Giulianova, rapinata la farmacia comunale di Via Trieste. Edizione di Pescara, palazzi sgomberati 236 senza casa. Emergenza in Via Lago di Borgiano. La Perizia, loggi popolari con poco cemento. I richiami di cronaca. Enrico Piano, il super test rischia di finire tra gli indagati. E poi ancora, sempre a Pescara, 13 kg di droga in casa. Arrestato. Polemica, sempre a Pescara, immigrati alla Caritas. Qui nessun business. E poi ancora, in basso, il Ministero stringe tempi sulla bonifica. Busi ultimatum alla Edison. Tre mesi per presentare il piano di caratterizzazione. E poi ancora, un altro richiamo. Congresso medico, strumenti monouso per le protesi al ginocchio. E siamo ora alla prima pagina del messaggero Abruzzo. Vediamo l'apertura. Sisma, gli sfollati di Pescara. Incredulità, rabbia, disperazione. Ma soprattutto grandi difficoltà organizzative per dare sistemazione alle 84 famiglie che hanno dovuto lasciare i tre palazzi dichiarati inagibili. Poi sotto la testata, notti di note. Pescara, a Liento del Sur, a Laurum, via ai concerti. Estatica, street food time, lo spettacolo del cibo al porto turistico. Per il calciomercato, Ganza ha scelto il Pescara. Farà coppia con Cappelluzzo. Prende forma l'attacco della squadra di Zeman. Per il prossimo campionato, il giocatore dice no al Palermo. L'affare sarà chiuso dopo la cessione di Coulibaly. Di spalla, nomina illegittima del vecchio nel mirino. L'opposizione contesta l'incarico al consorzio Val Pescara. Un ricorso all'Anac. E poi ancora, in taglio medio, intanto vediamo la foto. L'università, meglio fuori, Abruzzo. Una giornata con i maturandi del 2017. Rigopiano, sepolta in uno scatolone la carta del rischio. Deposizione shock del dirigente regionale. Gli avvocati, ora va indagato. E poi chiedi la protesta. Dai con licenza, licenzia e di primio. Rinuncia alla fascia. In basso, l'Aquila, la festa, fratti, la gioia dei 90 anni. E adesso passiamo alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Salta in aria il sedicesimo Bancomat. Dopo gli attacchi alla Tercas, la banda della Marmotta colpisce la filiale della BNL di Sant'Egidio. Sotto la testata, allarme bomba con polemica in tribunale a Teramo. Politica, prove tecniche per il centrodestra alternativo. Terremoto, emergenza abitativa anche a Pescara. Poi la fotonotizia, una versione diversa rispetto a quanto abbiamo visto sul centro. La leggiamo sulla città. Flop annunciato in Teramnia, città semivuota per le misure di sicurezza. E poi ancora di spalla, Giulianova rapina a mano armata in farmacia a Martinsicuro. Promette lavoro in cambio di soldi. Arrestato a Roseto. Strisce blu, stalli irregolari e parchimetri ancora assenti. Per la cronaca in basso, anziane sorelle maltrattate per anni. 50 treni di Silvi le picchiava per avere i soldi per l'alcol. E poi giro rosa, la tappa di Roseto va alla finlandese. Lotta l'episto. Chiudiamo per un attimo la parentesi dei quotidiani locali. Adesso andiamo con la rassegna delle prime pagine delle principali testate nazionali. Partendo con il Corriere della Sera. Merkel con Trump. Accordi lontani. L'Europa sia unita. Intervista alla cancelliera alla vigilia del G20. Poi ancora migranti. Bill Gates, meglio chiudere i confini. Ora l'Occidente rischia l'invasione. E poi l'editoriale di Paolo Mieli. Il PD e le scissioni. Le lotte fratricide a sinistra. In taglio medio. Previdenza sale. L'età per la pensione si arriverà quasi ai 70 anni. I calcoli dell'Istat per il 251 dal 2019 quota 67. E poi la tortura e il reato. Passa la legge. Ma partiti divisi. Avanti con la stampa. L'ultima battaglia per Charlie. La mamma chiama il bambino Gesù. Siete la nostra speranza. Le mosse del Vaticano. La Premier May. L'ospedale valuterà ogni proposta. Il ministro Johnson Adalfano. Impossibile portarlo a Roma. E poi l'editoriale di Carlo Rimini. La sentenza sul dolore del piccolo. L'immagine al centro della prima pagina della stampa. L'anatema del sindaco di Rio. Basta samba. Il primo cittadino ed ex vescovo evangelico. Taglia i fondi alle scuole tradizionali. E una danza peccaminosa. dice avanti ancora con l'edizione della Repubblica. L'edizione moderna della Repubblica. Sì alla legge. Ora la tortura è reato. Codice antimafia. Maggioranza spaccata. Il provvedimento rischia di arenarsi. Orlando. La norma serve migranti. Appello di Minniti all'Unione Europea. Più soldi. Dietro fronte dell'Austria. Niente blindati al Brennero. E poi ancora al centro clima. La tela di Merkel per piegare Trump. Il givente d'Amburgo. La cancelliera cerca l'intesa con Pechino. E poi in basso addio a Navarro Valls. Col sorriso diede una nuova voce alla chiesa. Fu portavoce di Wojtyla. E scomparso all'età di 80 anni. E poi i comuni e quella voglia di Autoblu. In un anno ne spuntano 9.000 in più. Flotta statale a quota 30.000. Il boom a Oristano in Sardegna. Avanti con il Fatto Quotidiano. Sgominata la Fatto Connection. Megablitz in tre città. Telefoni e computer sequestrati. Cassetti forzati. PM e Guardia di Finanza di Napoli. Perquisiscono Lillo e la redazione per le fughe di notizie. Consip. E poi Procura di Roma indagato Vannoni. L'amico di Renzi che inguaia Lotti. Il PD si rimangia l'interrogazione al governo contro il Noe. Poi in taglio medio. Gare Expo truccate. Sala decise da solo gli altri manager contro. La Procura Generale di Milano. Un bando su misura. Dietro pressioni politiche. Avanti ancora con la prima pagina del giornale. La fine del buonismo. Svolta di Bill Gates. Basta immigrati. Il numero uno di Microsoft dice impedire che arrivino in Europa. Bonino svela. Invasione voluta da Renzi. E poi provvedimenti in stand by. Antimafia. Iussoli. Matteo a caccia di voti alla sua sinistra. E poi ancora al centro pagina. L'impresa di ieri di Fabio Auro al Tour de France. Trionfo dove vinse Nibali. Auro colpo da squalo. E il Tour si inchina. E poi ancora è approvato in Parlamento il reato di tortura e legge. Ultimo schiaffo alla polizia. Avanti con la prima pagina del quotidiano libero. L'invasione non si ferma con l'accoglienza. Perché l'Austria ha ragione. Vienna ha chiuso le frontiere dopo aver visto il dossier degli 007 tedeschi. In arrivo 6 milioni dall'Africa. Italiani stufi nel nostro governo in belle. Oltre 7 su 10 vorrebbero un colpo di Stato militare. E poi una sfiga tira l'altra. Formigoni ha i Rom in villa. In basso passa la legge che trasforma gli interrogatori in tortura. Criminalizzati i poliziotti che lavorano. La verità. Lo Iussoli è come gli 80 euro serve al PD per comprare voti. Una legge che gli italiani non vogliono e che non migliora la situazione del paese. Ma Renzi spera che lo aiuti a sfangarla le elezioni. Intanto ecco i conti sull'immigrazione. Abbiamo pagato 265 milioni per farci invadere. Poi la foto al centro del ministro inglese Johnson che sbatte la porta in faccia al Papa. Il piccolo Charlie resta a Londra. In taglio medio, brutto e pericoloso passa il reato di tortura. Destra, sinistra, poliziotti e magistrati. La legge non piace a nessuno. Quindi la Camera l'ha approvata. Avanti ancora con il tempo. Pioggia di soldi sulle sagre ai terremotati. L'elemosina alla festa di paese più fondi che alle imprese del cratere. Per la regione il consenso viene prima delle promesse da mantenere. Poi la campagna del tempo per Marcello Dell'Utri. Grazie a tempo. Dell'Utri ci scrive, scrive al tempo, dalle sue prigioni. E poi la fotonotizia al centro. Scena muta. Tugliani, convocato in procura, si rifiuta di rispondere ai PM. E poi ancora passa la legge per inguaiare agenti e militari introdotto il reato di tortura. Avanti con il messaggero. Migranti, navi ONG al setaccio. Controlli a tappeto della Guardia Costiera sui natanti utilizzati nei soccorsi. Alcuni irregolari. Minniti alla Camera, aiutiamo i profughi in Libia. Vienna, dietro front sui blindati al Brennero. Poi vediamo sotto la testata la cerimonia. L'addio laico a Paolo Villaggio, Sorrentino, Fantozzi, un faro. Ciclismo, Tour de France, Aru, stacca tutti e domina. La prima tappa in salita. Poi dei richiami a centropagina. Oggi potrebbe saltare. Antimafia, maggioranza spaccata. La riforma viaggia sul binario morto. Il via libera alla Camera. L'accusa di tortura entra nel codice. La legge appena varata scontenta tutti. La fotonotizia al centro. Xi da Merkel e la diplomazia del Panda. La Cina sostiene la Germania per il G20. Donati due orsetti. Multe non riscosse. La beffa del tesoretto da 20 miliardi. Il peso dell'evasione sul bilancio dello Stato vale una manovra. La Corte dei Conti. Recupero difficile. Poi in basso stipendi Rai nel mirino dei giudici contabili. Fazio e il cachet. Da 11 milioni c'è l'inchiesta. Poi la notizia della morte di Joachim Navarro Valsa. La voce di Waitiwa rivoluzionò il rapporto Papa-Fedeli. L'avvenire con l'apertura contro la tortura mai troppo presto. Approvata la legge anche in Italia diventa reato. E poi ancora la prima pagina del secolo XIX. La tortura e il reato ma tra le polemiche. Fino a 12 anni di carcere. Critiche da destra e sinistra. E poi ancora 16 anni dal G8 di Genova. E dopo i tanti richiami dell'Europa arriva questa approvazione. In basso lacrime risate per l'addio a Villaggio. Il mondo del cinema a Roma per l'ultimo saluto all'attore genovese. Infine il mattino l'antimafia spacca la maggioranza. Scontro e rinvio in Senato sulle confische. Estesa la corruzione. Oggi il voto finale. Alfano lascia libertà di coscienza. Renziani in imbarazzo. Il nuovo codice potrebbe passare con l'aiuto dei 5 Stelle. Poi sotto la testata Diego e Napoletano. Nessuno mi ama così. Prima dello scelto la cittadinanza in comune. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali. E possiamo tornare sul centro. Partendo da pagina 2 e 3. Quindi ritrovando degli articoli che sono legati alla fotonotizia. Che avevamo riscontrato in prima pagina. sugli stipendi degli sportivi. Anche gli sportivi abruzzesi. Ecco qui i paperoni dello sport. Tra gli italiani i Gallinari batte tutti. Guadagnerà 19 milioni negli Stati Uniti. Poi ancora è giusto pagarli così tanto. Nella top 10. Tricolore anche Pelle. 14 milioni. Valentino Rossi 7,5. E Sebastian Giovinco 6,5. La nuova stella dei Clippers alla conquista di Los Angeles e del basket NBA. Ingaggi da favola anche per De Rossi e Pirlo. E qui abbiamo gli sportivi tra i più pagati. Ovviamente gli italiani. La top 10 dei campioni strapagati. Gallinari, Pellè, Rossi, De Rossi, Giovinco, Beninelli, Verratti, Pirlo, Bonucci e Buffon. Poi ancora in basso i ricordi di Tony Giammarinaro. Ai miei tempi era solo passione. Lo stipendio era un pranzo. E poi appunto gli abruzzesi a 6-0. Ieri Verratti incassa 5,6 milioni di Francesco e Iannone contratti da 1,5 a stagione. Ecco qui tra gli abruzzesi più pagati anche l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo. Andiamo avanti nelle pagine della regione Abruzzo. Ecco qui Caso Ombrelli, scrittrice contro governatore. Cinque giorni di polemiche dalla foto sul palco alla critica della Boldrini e l'interrogazione di Stefano. E poi il botte risposta sulle colonne del giornale. Da un lato il presidente della regione D'Alfonso. Non chiedo scusa per un gesto di cortesia e in assoluta autonomia. Dalla parte opposta la scrittrice Dacia Maraini. Quella fotografia fa pena e un danno all'immagine della regione. E poi ancora agricoltori no al trattato Unione Europea-Canada. Tanti abruzzesi alla protesta della Col di Retti davanti a Montecitorio Federici. Arrischi il nostro grano e i prodotti DOP e IGP. E poi in taglio medio a Pescara festa dei democratici cristiani tra Amarcord e Proposte. E poi in basso animalisti italiani protesta per il cane ucciso denunciato Walter Caporale. Nomina di Del Vecchio e scontro. Sospiri di Forza Italia dice che non può assumere l'incarico. La replica del consigliere regionale del PD Balducci è legittimo all'interno del collegio liquidatori del consorzio industriale Chieti-Pescara. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara. Con la notizia di ieri lo sgombero d'urgenza che peraltro è stato firmato due sere fa. Poco cemento nei palazzi, in 236 restano senza casa. Gli edifici popolari di Rancitelli rischiano di crollare gli abitanti. Finiscono negli hotel. Con la perizia dei tecnici, tra le problematiche principali c'è la qualità del calcestruzzo usato. Solo rattoppi alle crepe sui muri. Tre fabbricati di sette piani potrebbero collassare anche in assenza di un terremoto. Sotto accusa pure il ferro utilizzato per le armature. E poi ancora le parole dell'amministratore di Ather. Abbiamo evitato una catastrofe, controlli anche in via Basento, ma non abbiamo i progetti. Poi la paura dei residenti in casa con i muri crollati. Gli inquilini mostrano gli appartamenti danneggiati dopo le scosse di terremoto. Poi le parole di Carminelli di Sunia, il sindacato degli inquilini. Fuori gli abusivi, alloggi a chi è in regola, Forza Italia attacca, Sunia il sindacato degli inquilini. Il comune, la voce del comune, la voce del sindaco Alessandrini, nessuno sarà lasciato da solo. Avanti ancora profughi e polemiche alla Caritas. Non facciamo business con gli immigrati. Invito all'accoglienza di Don Marco Pagnello. Queste persone finirebbero in strada. Ci sono dei servizi da assicurare, le somme erogate alla Caritas vengono utilizzate per garantire i servizi previsti in favore degli stranieri. Professionisti al lavoro per assistere ai profughi, vengono assunti degli specialisti. Dobbiamo fare tutto per bene, siamo sottoposti a controlli. E poi appello a Bergoglio per i 20 disabili senza assistenza. Le famiglie scrivono al Papa per i figli esclusi dai servizi di riabilitazione. Trovate solo alternative a pagamento. E poi ancora in basso, Menzietti, ambasciatore dell'Italia all'OMS. Il pescarese rappresenta l'associazione Nonno Ascoltami sulla prevenzione dei problemi uditivi. Avanti ancora con la cronaca di Pescara. 13 chili di droga in casa, arrestato. Maxi, sequestro dei carabinieri. 29enne, finito in carcere. Nascondeva nelle valigie marihuana, ascisce e metanfetamina. E poi ancora in basso, la denuncia di Sorgentone. Sogni infranti e degrado lungo la strada Parco. Avanti ancora, sempre a Pescara, protesi. Ora gli strumenti sono monouso. Pescara è uno dei sei centri che partecipa alla sperimentazione sugli interventi al ginocchio. Se ne parla in un congresso. E poi in basso, Rigopiano, il super test. Rischia di finire indagato. Interrotto l'interrogatorio del funzionario regionale. E qui vediamo nella foto, Carlo Giovani, come leggiamo. Ex responsabile dell'ufficio rischio neve della regione. Avanti ancora, stop a Cinghiali e degrado. Vivere qui è un incubo. A Francavilla cresce la protesta dei residenti di Via Desimone per i siti incolti dove si innescano i roghi. La strada è disseminata di dossi e arbusti caduti. E poi in basso, a San Giovanni Tiatino, fermi col verde al semaforo trappola. Automobilisti in tilt tra Cantiere Eterna e Foto Antirosso all'incrocio di Aushan. Andiamo avanti, sempre con le pagine della cronaca. Ma siamo a Sulmona. Referendum al call center. Passa l'accordo 3G. Stop ai licenziamenti. Votata la proposta aziendale, salvi 91 posti in cambio del congelamento per tre anni del trattamento di fine rapporto. E poi interviene la UIL, rifugiati in regola sfrattati dal centro di prima accoglienza. E' l'annuncio della Asla Aquilana detenuti. L'ospedale avrà il reparto Tordera, progetto modificato in base alle richieste del carcere. Avanti ancora e torniamo nel Pescarese, in particolare a Bussi sul Tirino. Veleni di Bussi, il ministero dà l'ultimatum alla Edison. Entro tre mesi il Colosso della Chimica dovrà presentare studi sulla caratterizzazione. Il sindaco Lagatta, una svolta per il nostro paese. Presto riavremo i terreni puliti. E poi ancora in basso, appenne troppa confusione sulla nuova Giardini. Interrogazione dei consiglieri 5 Stelle sull'appalto della scuola bloccato dalla Giunta. E adesso siamo alla pagina di Chieti. Suberi, Daico in 400 scendono in strada. L'azienda conferma 135 posti a rischio e annulla l'incontro per protesta di primio. restituisce la fascia di sindaco al prefetto. Allora, vediamo le immagini dello sciopero e l'intervista al sindacalista della Filtem CGL, segretario regionale Carlo Petaccia. Oggi stiamo scioperando davanti i cancelli della Daico, dopo un'assemblea molto partecipata. Hanno scioperato 620 dipendenti, perché possiamo dire con molta nettezza che hanno scioperato il 100%. E' vero pure che l'argomento che in esse è un argomento molto importante per il futuro di questa società. Ieri un incontro veramente allucinante. La Daico, per nome del CO, l'amministratore delegato Nicco Orlando, ci ha comunicato in un modo, possiamo dire, anche in un modo becero, ci ha comunicato un esupro di 135 persone su 620. Non ci ha fatto nessuna dichiarazione per il futuro dei restanti dipendenti, facendo in modo, mettendo in allarme tutto il settore. E' quindi per questi motivi che noi abbiamo proclamato in un modo eccezionale, perché è stata eccezionale la comunicazione, uno sciopero di quattro giornate. Scioperiamo da oggi fino a sabato, perché questa azienda lavora fino al sabato, e credo che la gente abbia capito l'importanza e ci ha seguito. Continueremo la nostra protesta, andremo in confindustria domani alle 3, anche in un modo anomalo, perché ci rendiamo conto che una convocazione con uno sciopero in atto non è mai successo, noi vogliamo perseguirla, perché non ci fidiamo di questa società. E' per questo che continueremo. Sempre sulla pagina di Chieti del Centro, in due a processo per la villetta esplosa, nel crollo rimase vittima la proprietaria, a giudizio chi ha installato il bombolone di GPL. Pagine dell'Aquila di Teramo, iniziamo da quella aquilana, siamo in Marsica. Campo di calcio chiuso per bestemmie, Don Adriano Principe, una settimana senza pallone, i ragazzini giocano gratuitamente, ma devono rispettare le regole. Tutto questo ad Avezzano e qui vediamo questo cartello che è stato affisso al di fuori del campo a causa delle bestemmi udite e delle bottiglie buttate. Il campo resterà chiuso questa settimana, la decisione appunto presa dal parroco, Don Adriano Principe, la chiesa di San Rocco. Poi bancario tenta di darsi fuoco in autostrada a Pescina, l'uomo era scomparso a tempo fa per un presunto ammanco milionario in un istituto di credito. E poi in basso, sempre ad Avezzano, accusa un mal di orecchi, muore a 38 anni, un giovane tifoso dell'Avezzano ha un malore mentre è in attesa in ospedale, sconvolti gli amici, una scomparsa particolare. Pier Giuseppe Leonio è il nome della vittima. Avanti ancora con la pagina di Teramo, inaugurata la Coppa Interamnia che funziona, la sfilata blindata, qualche mugugno ma zero incidenti, in piazza c'erano oltre 3.000 persone, la questura misure necessarie anche perché siamo in zona sismica. Questi alcuni degli scatti di ieri, della manifestazione di ieri. E poi ancora, a Sant'Egidio la vibrata, salta in aria il bancomat della BNL e torna alla banda dell'esplosivo. È il decimo colpo della serie. Martín Sicuro, sindacalista in carcere per truffa, deve scontare un cumulo di pene anche per altri reati. Noi ci fermiamo per ora, diamo lo spazio alle previsioni del tempo e poi alla pubblicità e quindi ci ritroviamo con la seconda parte di Mattino 6. Ancora buongiorno, inizia la seconda parte di Mattino 6 con le pagine del messaggero Abruzzo Medicina o Economia, ma mai in Abruzzo. Voglia di evadere e basso rating degli atenei regionali decisivi nella scelta universitaria. Una giornata con gli studenti e le prese con le ultime prove dell'esame di maturità. Milano, Bologna e Roma sono le sedi più ambite dei pescaresi, centri più vitali della provincia. E poi, nel caso L'Aquila, partire non è tradire. La difficile scelta dei ragazzi del capoluogo torneremo per contribuire alla ricostruzione. Poi voglia di eccellenza per i chietini che sognano la normale di Pisa. A Teramo resiste il mito del giornalismo. E poi ancora le pagine di Pescara, Palazzi a Rischio, Via Lo Sgombero, Prefettura Comune Ater, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine in Via Lago di Borgiano per l'evacuazione forzosa di 84 famiglie. Solo 8 gli alloggi alternativi subito disponibili. Tanti andranno in affitto, ma c'è chi teme furti e vuole restare. La Labortec certifica l'inidoneità statica dei tre edifici e si ipotizza un nesso di causalità con il terremoto. Con l'ordinanza del sindaco è scattata ieri la procedura che porterà alla demolizione. E poi alcune testimonianze ci dicevano che era tutto a posto, tra noi anche disabili. Come faremo? Il risveglio amaro degli inquilini, rabbia e tensioni con il sindaco nella parrocchia. L'amarezza di Basile. E poi ancora Rischio, Valanghe. La mappa giaceva sotto la polvere. Ricopiano, dichiarazione shock del dirigente responsabile per gli avvocati del sindaco di Farindola. Farindola deve essere indagato, svolta nel corso dell'interrogatorio, richiesto dalle difese e polemica sulle intercettazioni negate dalla procura. E poi ancora il PD riapre la trattativa con Teodoro. Chiarimento tra sindaco e gruppo dopo il caos di lunedì. Chiesta al partito una mediazione con l'alleato scontento. E poi ancora siamo a Montesivano. Niente barricate per la casa dei migranti. Aperta a Montesivano la struttura della Caritas destinata all'accoglienza. Proteste contenute da parte dei residenti. L'arcivescovo Valentinetti torna sulla polemica. Questa è l'unica strada per governare il fenomeno senza pericoli. Nell'ex area artigian luce ci saranno anche una mensa gestita da volontari e l'emporio solidale. Vediamo il servizio della inaugurazione di ieri. Signor Valentinetti, inaugurazione oggi della Casa della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta. Un altro segno di accoglienza per tante persone che soffrono, che sono in difficoltà? Certamente. Un segno di accoglienza veramente per tutti. Prima di tutto per le persone indigenti della nostra terra, e ne sono veramente tanti, che assistiamo costantemente e il bisogno qui a Montesivano si fa sentire in maniera particolare. E poi anche per altri che in qualche modo possono bussare alle porte del nostro cuore, alle porte di questa casa, perché trovino la possibilità di mangiare, la possibilità di essere accolti nelle loro necessità primarie, e poi soprattutto anche l'emporio della solidarietà, che sarà a disposizione delle famiglie, le nostre famiglie, delle parrocchie che sono in difficoltà, e che potranno quindi fare la spesa, come si suol dire, senza eccessiva difficoltà. Cioè senza passare attraverso il famosissimo pacco viveri, che potrebbe essere un po' obsoleto e soprattutto qualche volta anche un po' umiliante. Le cronache ci riferiscono che ormai giorno dopo giorno i nuovi poveri aumentano, anche in Abruzzo, anche in provincia di Pescara, e voi toccate con mano con la Caritas queste difficoltà. Le tocchiamo con mano queste difficoltà e cerchiamo di rispondere a tutti. Io capisco che qualche volta, con qualche punta un po' polemica, si parla di una Caritas diocesana che apre il cuore, è parrocchiale anche, che apre il cuore ai migranti sì e agli italiani no. Ma questo mi dispiace, non risponde a verità. L'accoglienza, solidarietà e soprattutto risposta ai bisogni primari di tanti cittadini che sono in difficoltà, che vivono la crisi ormai da tanto tempo, da troppo tempo. Questa è una valvola di sfogo, è una presa di posizione importante del Comune, ma anche della Caritas, per alleviare le sofferenze di quanti magari un tempo vivevano bene a Montesilvano, anche nell'agio economico e che oggi purtroppo devono affrontare problematiche economiche importanti. Qualche residente però si mostra un po' insofferente questa iniziativa. Ma non possiamo avere la presunzione che ogni iniziativa sia condivisa e accettata da tutti. Anche queste dimostrazioni di non condivisione devono essere prese in considerazione, affrontate e con un taglio pratico bisogna dimostrare loro che non c'è nessuna preoccupazione, che non ci sarà nessuna situazione di pericolo, ma che anzi la situazione verrà monitorata costantemente. Proprio per venire in conto alle esigenze del territorio. Sempre sul messaggero Abruzzo, mercato etnico, trasparenza sulle graduatorie, aspetta al Comune verificare requisiti e assegnare i posti dei richiedenti e saranno ospitate diverse etnie, il Comune è quello di Pescara. Avanti con le pagine aquinane del messaggero, bocciano il modello L'Aquila, ma intanto cercano di copiarlo. Presentato ieri il rapporto in Senato, la De Micheli promuove la ricostruzione, sono 670 i cantieri aperti in città e 42 stanno per essere avviati. Il futuro del progetto case va affrontato tutti insieme, programmando le risorse. Avanti ancora, con in basso alcune notizie di cronaca, auto dalla Germania, tremano 400 clienti, il principale indagato pare provvedesse in alcune circostanze a scalare i chilometri dai mezzi venduti. Accord Fenix, il giudice dissequestra lo stabilimento. Poi ancora, Santa Maria di Roio, un piano per l'area, si pensa a un progetto architettonico e urbanistico che riguarda l'intera zona limitrofa alla splendida chiesa. Parole di Cicciotti, apriremo un tavolo tecnico per il recupero dei dintorni. Ci sono delle costruzioni incongrue. L'edificio ecclesiastico è stato oggetto di un primo lotto di lavori per la sicurezza. E poi, in basso, Fratti, 90 anni col sorriso. Il Consiglio regionale lo ha omaggiato con una cerimonia. L'Aquila, bisogna essere perseveranti, la ricostruzione sta andando avanti. Ora andiamo con la pagina della Marsica, ma anche della Valpeligna. In particolare siamo a Sulmona. La prefettura sfratta i rifugiati. In arrivo un'emergenza sociale. Secondo la normativa non hanno più diritto a usufruire ulteriormente delle misure di accoglienza. Commito della Will e un'assurdità. Questi ragazzi oggi si ritrovano improvvisamente senza un tetto e senza lavoro. Si calcola che sono tra il 93 e il 95% i migranti che non troveranno posto negli Sprar. Poi in basso, Aciam in attivo, i rifiuti danno soldi e assunzioni. Approvato il bilancio della Consociata Marsicana, che ricicla anche per Roma, ai comuni, parte degli introiti. La ASL, il reparto per detenuti, si farà. Il manager Tordera smentisce le voci del dietrofront sul progetto. Avanti ancora con le pagine di Chieti del messaggero. Daico, il sindaco, riconsegna la fascia. I lavoratori scendono in piazza dopo l'annuncio di 135 licenziamenti. I sindacati pronti a trattare solo se l'azienda ritira tutti gli esuberi. Gesto eclatante di di primio. Nel primo dei quattro giorni di sciopero non indosserò il simbolo tricolore finché non si risolverà la questione. La rabbia dei dipendenti, noi offesi e presi in giro, a rischio il futuro di 656 famiglie. Poi, anziano morì nel distretto, medico rischia il processo. ASL citata per danni per l'accusa, non vennero allertati né 118 né il cardiologo della struttura fatale. Un infarto. E poi ancora, sistema idrico, da oggi la gestione delle reti passa all'ACA. Allora, ieri è stato tutto questo annunciato dal sindaco di primio. Vediamo il servizio. Il comune di Chieti ha firmato il protocollo per la cessione all'ACA della gestione del sistema idrico integrato della città. Un obbligo di legge, ha puntualizzato il sindaco Umberto di Primio, che però si mostra soddisfatto del passaggio. Con ACA in passato non sono mancati i problemi, ma l'azienda ha a disposizione delle risorse per investire nel miglioramento e potenziamento della rete idrica cittadina. ACA, a differenza del comune, che ha degli eccezionali addetti, ma in un numero assolutamente irrisorio, solo 4 persone, ha la possibilità di contare anche su un buon apporto di personale per poter gestire e intervenire sulla rete. Già abbiamo concordato con i loro interventi che si stanno già svolgendo di manutenzione, riparazione, anche di allogamento della rete idrica e fognare della nostra città. Ma ovviamente chiediamo che ci sia un investimento importante, così come abbiamo fatto oggi noi, sulla nostra rete. Questo vorrà dire soprattutto però che cambia l'interlocutore per il cittadino. Cioè, mentre prima si chiamava il comune, il comune interveniva con i propri mezzi, oggi ad essere chiamato in causa per le riparazioni, piuttosto che per le questioni riguardanti la distribuzione dell'acqua, è ACA. Ovviamente il comune non sparisce, c'è, ci siamo, vigiliamo, collaboriamo con ACA, ma soprattutto collaboriamo con i nostri cittadini, quindi ci facciamo noi, l'autore delle istanze dei cittadini nei confronti di ACA. Le ultime stagioni estive sono state difficili a Chieti sul fronte dell'approvvigionamento delle utenze. Un po' per la carenza che normalmente si registra in stagione, un po' per la dispersione di acqua lungo la vetusta rete idrica. Serve sì investire per migliorarla, ma bisogna intervenire anche sull'accumulo di acqua. Il lavoro vero, l'investimento che chiederemo ad ACA, che noi avevamo già inviato in termini di progettazione, lo si deve fare sullo stoccaggio delle risorse idriche, quindi sulla nuova progettazione di serbatoi in città che consentono l'accumulo di acqua e quindi poi la redistribuzione sul territorio. Andiamo a Lanciano, sempre sul messaggero, a largo dell'appello, il nuovo palco dell'estate musicale. Il sindaco risolve l'emergenza dopo lo sfratto da Piazza d'Armi. Direzione domenica, direzione orchestrale affidata a Irene Gomez Calado, trasluoco imposto dal Giro di Vite sulla Sicurezza. Intanto si lavora per ritornare dentro le torri. E poi sempre a Lanciano il direttivo di Forza Italia va in scena con il processo, la giunta Pupillo, Ivaldo Rulli si affida alla Satira per raccontare i 365 giorni di attività e i risultati del governo cittadino. E poi a San Salvo, migranti vicino al centro commerciale, Moschetta pronto allo sciopero fiscale, il presidente contro l'arrivo di 70 profughi all'ex hotel Miraverde. E poi ancora il colpo a Schiavi d'Abruzzo, anziana visitata dai ladri, aveva 2 kg d'oro in casa. Le pagine terramane del messaggero, commercianti sindaco e scontro, tracciato il bilancio della notte dei saldi, se c'è un clima di sfiducia la colpa è sua, si occupi dei problemi della città invece di criticare. I negozianti non gradiscono le dichiarazioni del primo cittadino sulla scarsa partecipazione degli esercenti all'evento per lo shopping. Il momento difficile è legato al cantiere di Corso San Giorgio, dobbiamo conviverci da ben due anni per colpa di lavori Lumaca e molti hanno avuto le vetrine oscurate dalle transenne, giù gli incassi. E poi ancora, tribunale falso, altro falso allarme bomba e gli avvocati vanno su tutte le furie. I legali, noi umiliati, non ci hanno permesso di assistere al giuramento del nuovo presidente. indagano i carabinieri. Avanti ancora, siamo sulla costa. A Giulianova scoppia di nuovo la grana dei Dehor, mentre il nuovo regolamento è stato inserito nel programma di fine legislatura. I 5 Stelle annunciano un esposto al prefetto. Ci sono casi ancora irrisolti, come quello della Bracenova e Brad Burger, che non possono sistemare tavolini all'aperto. Intanto, finalmente, il PD indica al sindaco i nomi della giunta. Poi ancora, Sant'Egidio la Vibrata, nuovo colpo con esplosivo al Bancomat. Potrebbe trattarsi della stessa banda che sta terrorizzando la zona. Sempre in Val Vibrata, Martinsicuro, soldi in cambio di posti, sindacalista arrestato, trasferito al carcere di Castrogno, dove sconterà tre anni e nove mesi. Lasciamo il messaggero. Andiamo ora a sfogliare le pagine della città, il quotidiano della provincia di Terra. Riprendiamo da questo fatto di cronica che abbiamo trovato già sugli altri quotidiani, ovvero l'assalto al Bancomat della BNL di Sant'Egidio alla Vibrata. Ecco qui, con la banda della marmotta, la cosiddetta banda della marmotta all'opera, che colpisce a Sant'Egidio dopo gli undici attacchi agli sportelli Tercas. Questa volta è toccato alla Banca Nazionale del Lavoro. Si tratta del sedicesimo assalto a sportelli, bancari e postali, che si registra in provincia di Teramo dallo scorso ottobre a oggi. Per la prima volta la banda non è entrata in azione nel fine settimana, come fatto invece in passato. E questo è quanto resta della filiale di corso adriatico della BNL a Sant'Egidio alla Vibrata dopo l'esplosione di due notti fa. Poi ancora il sindaco di Campi, Quaresimale, porta a Perugia il caso della frana di Castelnuovo. In basso falso allarme bomba con polemica al Palazzo di Giustizia di Teramo. E poi lo spazio dedicato alla sfilata inaugurale della Coppa Interamnia. Un flop annunciato per la Coppa Interamnia. Centro storico semi vuoto a causa della scelta di blindare la piazza in occasione della sfilata delle squadre. Piazza blindata e braccialetti numerati per poter accedere. Misure di sicurezza che hanno influito negativamente sulla partecipazione dei terramani. Poi c'è questo scatto dall'alto su Piazza Martiri della Libertà, il cuore appunto della sfilata inaugurale della Coppa Interamnia. Andiamo avanti. Ecco qui il sindaco nel suo discorso. Maurizio Brucchi è tornato a sottolineare le difficoltà che la città di Teramo sta affrontando a causa delle scosse di terremoto nei mesi scorsi. Commercio vivo in centro storico. Gli esercenti terramani fanno il bilancio della notte dei saldi e invitano i colleghi all'unità. La risposta a Brucchi invece di criticare la categoria cerchi di capire il perché della sfiducia di alcuni operatori. In basso, in arrivo ad Albadriatica, gli artisti di strada. Prove tecniche, qui siamo alla politica, prove tecniche per il centrodestra alternativo. Cena a San Nicolò tra i rappresentanti di Alleanza Nazionale al centro per Teramo e i fittiani in chiave anti-capibastone. D'accordo sul dare un segno di discontinuità con il centrodestra che al momento amministra la città. Avanti ancora con le notizie dalla provincia. Fondi per il centro prelievi di Bisenti. La ASL mette sul piatto 370 mila euro per la struttura chiusa dopo un controllo del NAS. Presso la struttura sono attivati i servizi di guardia medica, un servizio di medicina generale, una postazione del 118, un servizio di continuità assistenziale e un punto prelievo del sangue. Quest'ultimo facente capo al distretto sanitario di base di Atri. Questa sera l'incontro sul progetto con il consigliere regionale Monticelli, il sindaco, il PD e i vertici della ASL. Avanti ancora Martinsicuro promette lavoro in cambio di soldi, sindacalista truffatore arrestato dai carabinieri. Poi ancora Martinsicuro i primi giorni di mandato incentrati sui servizi ai cittadini con il neosindaco Vagnoni, neosindaco di Martinsicuro, già al lavoro per la sua città. Siamo a Giulianova, rapina a mano armata. La farmacia comunale è armato di pistole, con un passamontagna fugge con l'incasso giornaliero. Il rapinatore ha puntato l'arma anche contro una cliente per farsi consegnare il suo denaro. Siamo a Roseto con la giornata di lutto di ieri. Roseto piange la morte del piccolo Elidion. Ieri pomeriggio al sacro cuore i funerali del bambino morto lunedì in mare nei pressi del Pontire. Il piccolo Elidion è morto lunedì dopo essere sfuggito per alcuni attimi al controllo della madre. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia Bufi, ben integrata nella comunità rosetana. Poi ancora a Pineto il PD benedice gli investimenti pianificati con i fondi dell'Eni. Sempre a Roseto strisce irregolari parchimetri ancora assenti. Per i più maliziosi il rinvio dei parcheggi a pagamento è dovuto ai ritardi nella installazione delle colonnine. Possiamo andare alle pagine dello Sport. Ecco qui il Teramo alle prese con la lista degli esuberi. da Sansovini a Barbuti passando per Spighi, Carraro e Scipioni. Le situazioni in uscita da risolvere sono ancora tante. Campitelli martedì è stato chiaro. Chi non fa parte del progetto tecnico e non va via non sarà aggregato alla prima squadra per il ritiro. Intanto lo svincolato Chinellato è il nome prescelto per l'attacco. Mentre si stanno per definire i primi colpi in entrata il diavolo ha bisogno di sfoltire molto l'organico. Per la Serie D si muove e tanto il Pineto. presi Bisegna, Gragnoli e De Vita. Confermato Cercelluti. L'esterno d'attacco ex San Nicolò è il fiore all'occhiello dell'attuale campagna rafforzamenti che però non finisce qui. Si parla di Serie D anche nella pagina successiva con il San Nicolò che prende Sassarini e Cala. Confermati anche tre pilastri. Ufficiali i due nuovi. Petronio, chiacchiere, le emozioni faranno parte della rosa bianca-azzurra anche l'anno prossimo. Ma l'apertura della pagina è dedicata al Giro d'Italia femminile che ha visto ieri l'arrivo a Roseto degli Abruzzi. A Roseto vince la finlandese lotta all'episto. L'olandese Anna van der Breggen rimane ancora in maglia rosa con Elisa Longo-Borghini seconda. Oggi c'è la tappa che da Isernia arriva a Baronissi. Domenica la chiusura a Torre del Greco. Allora vediamo ieri cosa è accaduto a Roseto degli Abruzzi. Annemiek van Vleuten, Orica Scott, alla premiazione il sessore al bilancio Antonio Frattari. Adriano De Padre, che soddisfazione vedere tanta gente oggi a Roseto per la tappa abruzzese del Giro d'Italia donne. Guarda, sono veramente orgoglioso, una tappa riuscita proprio alla grande. Già ho avuto i complimenti, è stata la più bella tappa del 28esimo Giro d'Italia femminile. non di quest'anno ma di tutte le edizioni. Una grandissima partenza, un grande pubblico, veramente alla grande. Un grandissimo podio. Ottima anche l'organizzazione, tanti tifosi lungo il percorso qui di Roseto. Davvero una bella soddisfazione che vi spinge ad andare avanti, a guardare avanti con ottimismo. Guardi, avevamo la beniamina di casa e è andato benissimo. Pensavamo in uno sprinter compatto, però purtroppo la giornata è così calda. un percorso selettivo, sembrava un percorso per velociste, ma veramente io sapevo che non era così. C'è stata una volata un po' diversa da quello che mi aspettavo, però è andato benissimo. L'importante è che è andata la manifestazione alla grandissima. ultimi minuti che dedichiamo, l'abbiamo già fatto poco fa, alle pagine dello sport sui quotidiani locali. Torniamo al centro, ecco qui, ovviamente calcio mercato in primo piano, Pescara, Zeman sorride, il tridente è quasi pronto. Con gli arrivi di Ganza e Cappelluzzo aumenta lo spessore del reparto offensivo. Coulibaly ceduto all'Udinese per 1,8 milioni, resterà in presido per una stagione. Qui vediamo già un abbozzo del Pescara che sarà messo a confronto con il Pescara che è stato nell'ultima stagione disastrosa in Serie A. Questo è l'abbozzo di formazione che viene fatto con Fiorillo in porta, con Zampano, Bovo, Fornasier è uno tra Crescensi e Pellegrini, giocatore classe 99 della Roma che il Pescara sta trattando. Questa può essere la linea di difesa, centrocampo Palazzi, poi Proietti o Brugman e Memuschai o Pessina, Pessina che potrebbe arrivare in prestito dall'Atalanta, che l'ho appena acquisito dal Milan nell'operazione che ha portato Conti alla squadra rossonera. E poi il tridente d'attacco con Ganza al centro, con Mancuso da una parte e Latte Latte o Capone dall'altra. Leggiamo ancora sul centro, a breve l'annuncio degli ingaggi dei centrocampisti Pessina e Valsania dall'Atalanta. Ancora calda la pista che porta all'esterno Massimiliano Gatto del Chievo. E poi in basso il vice di Fiorillo sarà l'Atalantino Radunovic, a un passo il portiere serbo ex Avellino, Aldegani nuovo preparatore piace Valiant della Ternara. Quindi Pigliacelli destinato all'Avellino e Radunovic che era titolare all'Avellino sarà il secondo di Fiorillo. Il prossimo anno, secondo quanto riporta il centro. Per la Lega Pro il Teramo insegue Chinellato e prende Milillo. Dal Pescari in arrivo altri giovani, c'è anche Sansovini in partenza. E poi dagli altri campi di Serie D alcuni movimenti, di Pestrina al San Marino, Morgia, l'ex sanatore dell'Aquila, a Nocera, dove ritroverà il DS Alessandro Battisti, con cui era stato anche all'Aquila. Le strutture ci sono, ma il 20% non funziona. Intervista al Presidente Malagò, anzi no, è una inchiesta del centro, in vista dell'arrivo di oggi del Presidente del CONI Malagò. Censimento CONI, 1815 spazi all'aperto e al chiuso, dove fare sport dallo studio effettuato. Emergono dati in linea con la media nazionale. Il Calcio a 5 ha il maggior numero di luoghi a disposizione. Dunque è una inchiesta che parte dai dati del CONI. Avanti ancora, Marchesani getta la spugna e chiede di perde anche la Serie B. Salta l'ultima trattativa dell'imprenditore per l'acquisizione del titolo sportivo del Giulianova. Si ripartirà dalla C-Silver con il Magic. Rapidamente anche sul messaggero Abruzzo. Calciomercato arrivano da Coulibaly i soldi per Ganzi. Intanto c'è Cappelluzzo. Il trasferimento del giovane centrocampista all'Udinese ha consentito al Pescara un rilancio decisivo con la Juventus. Mancano i dettagli per l'arrivo di Pessina e Valsania. Zeman infastidito dalla cessione di Pigliacelli. Poi Delfino in pressing sulla Roma per il giovane terzino Pellegrini. Ora si prova a sfoltire l'organico prima della partenza per il ritiro. In basso, Serie C, il Teramo punta su Chinellato e prepara 12 a D. Tra i partenti e anche molti protagonisti del nucleo storico, c'è il via al ricambio generazionale. E poi ancora leggiamo un po' che per il Pineto c'è Bisegna per Amaulo. Oltre all'attaccante proveniente da San Nicolò arriva Gragnoli. Conferme per i giovani Cercelluti e De Vita. I tifosi all'Aquila, i tifosi in assemblea dicono l'Aquila via Aureli e Ranucci e poi in eccellenza Aquino. Giulianova ho scelto il progetto, il nuovo bomber giallorosso che coppia insieme a Tozzi Borsoi. Ci fermiamo qui con Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. E poi vi ricordo questa sera alle ore 21. Velò, il nostro settimanale dedicato al ciclismo con Jacopo Forcello e Luciano Rabottini. Si parlerà di Tour de France, l'impresa di ieri di Fabio Auro. Si parlerà anche del Giro d'Italia femminile che ha fatto tappa ieri a Roseto. Ma si parlerà anche di tanto, tanto altro. Grazie a Silvia Gentile in regia e grazie a voi per la cortesia attenzione. Buona giornata. Grazie a Silvia Gentile in regia